Ben trovati a voi tutti, eccoci ad un nostro appuntamento con la rubrica insieme. Quest'oggi ci occupiamo del territorio, della cultura, delle tante belle iniziative che vengono messe in atto grazie anche all'impegno del mondo del volontariato locale, naturalmente supportato anche dalle amministrazioni e raccontiamo l'esperienza in scena a Santa Giustina proprio in questo periodo. Io saluto gli ospiti quindi che sono venuti a trovarci, saluto Federico Panizza dell'Associazione Culturale Pro Auditorium, ben trovato Federico. Salve, salve a tutti i telespettatori di Telebelluno. E saluto Cristina Pierotti dell'Ufficio Cultura Comune di Santa Giustina ma anche un volto noto per Telebelluno da come ho scoperto appunto, ben ritrovata. Grazie, grazie. Grazie per essere qui con noi, partirei con Federico per raccontare una iniziativa che è pronta a debuttare nuovamente perché siamo ormai alla terza edizione, il prossimo 5 aprile, un festival che si intitola Vita e Parole. Allora Federico chiederei a lei di raccontarci quindi questa attività in programma. Sì, il festival Vita e Parole è giunto ormai alla sua terza edizione, è un festival che è nato da un'idea dell'Associazione Culturale Pro Auditorium nel 2023 e che ha trovato l'appoggio anche del Comune di Santa Giustina, della parrocchia e anche dell'Associazione Culturale Il Vesess. Un festival che ha questo nome Vita e Parole perché lo scopo un po' che ci siamo dati come festival è quello di parlare della vita che ciascuno di noi ovviamente vive nella sua quotidianità facendo riferimento alla letteratura, all'arte, alla musica per cercare di avvicinare un po' il pubblico a quest'ambito perché non è assolutamente slegato, non è vero che è qualcosa di astratto e di assolutamente slegato dalla vita ma anzi invita a mettere a fuoco la nostra esistenza, la nostra vita stessa per cercare di, non tanto di dare delle risposte ma di porsi in ricerca, quindi di porsi continuamente delle domande. Certo, diciamo che la cultura è un qualche cosa che ci arricchisce in generale tutti i giorni e ovviamente voi dell'Associazione Culturale Pro Auditorium questo lo copite, lo respirate, diciamo così, nella vostra quotidianità. Esattamente, appunto siamo arrivati alla terza edizione e la scorsa edizione aveva come tema l'amicizia mentre questa volta ebraismo tra testi e musica. Perché la scelta di questo tema per queste serate? Fondamentalmente perché intanto era qualcosa che interessava in primis a noi dell'Associazione, se non è qualcosa che interessa in primis a noi, come facciamo a proporlo anche anche agli altri. Ma in secondo luogo perché noi, in quanto italiani, in quanto europei, in quanto anche sia credenti o non credenti ma comunque facenti parte della tradizione cristiana, comunque della tradizione biblica, abbiamo volenti o non volenti a che fare con l'ebraismo inteso in senso religioso ma anche come fattore culturale. Molto spesso noi parliamo di ebraismo e di cultura ebraica però senza approfondire, senza porci alcune domande che interroghino realmente questa realtà che è una realtà, come si vedrà poi lo illustrerà anche Cristina, è una realtà molto complessa, tutt'altro che semplice con delle differenze rispetto a noi ma anche delle somiglianze, dei legami e delle continuità. Tante volte noi ci fermiamo appunto magari a quello che abbiamo studiato a storia alla tragicità anche che è legata alla cultura e al popolo ebraico del passato. Ritorniamo un attimo Federico sull'associazione però, raccontiamo quindi anche quanti sono gli anni di storia alle spalle e qual è comunque la vostra mission in generale? Sì, allora la nostra associazione nasce nel 2006 quindi siamo un po' di anni alle spalle pur essendo un'associazione millennial come si dice ai nostri giorni e la mission come si vede dall'associazione Pro Auditorium è nata per poter avere uno spazio culturale a Santa Giustina e nel corso del tempo poi è diventata un'associazione non soltanto per la promozione di uno spazio fisico ma anche come un laboratorio di idee per il diffondersi della cultura nel nostro paese. E su questo adesso coinvolgiamo Cristina Pierotti dicevamo dell'Ufficio Cultura Comune di Santa Giustina e dal suo osservatorio privilegiato Cristina è significativa appunto questa sinergia che si viene a creare fra il mondo dell'amministrazione e anche la realtà del territorio come può essere l'associazione Pro Auditorium ma anche le tante altre associazioni presenti? Certamente l'amministrazione comunale ha voluto appunto sostenere fin dall'inizio questa idea di un festival vita e parole proprio perché innanzitutto partiva già con dei temi di interesse e nello stesso tempo capaci di coinvolgere da vicino la vita delle persone come diceva prima Federico e quindi aiutare le associazioni che puntano alla qualità anche alla profondità dei temi è importante per un'amministrazione comunale. Poi appunto c'è stata la possibilità di dare continuità a questa collaborazione e quindi iniziare questo nuovo percorso come assessorato ha confermato il sostegno in virtù proprio di questa del livello che si vuole raggiungere di profondità appunto di riflessioni perché a questo servono poi le presentazioni dei libri così come gli appuntamenti misti che sono come questi in programma interviene anche la musica. Ecco mentre noi adesso continuiamo a ragionare con lei Cristina chiederei a Simone che ci segue in regia di proiettare alcune immagini così che ci introducono anche a quella che è stata l'esperienza delle passate edizioni. Lasciamo proprio scorrere un po' le immagini mentre con Cristina raccontiamo anche come questi siano degli eventi, delle iniziative che possono interessare ad un pubblico variegato, sfaccettato. Abbiamo le persone più adulte ma anche i giovani sono protagonisti. Federico ne è un esempio. Certamente, Federico è un promotore appunto di questi eventi che appunto non hanno un destinatario definitivo. Cioè è aperto alla popolazione tutta, è molto interessante per i giovani credo un percorso di questo genere perché dice qualcosa di una storia, di un popolo che solitamente non si racconta perché appunto come diceva Federico siamo abituati a pensare all'olocausto ma l'ebraismo è altro da questo, è qualcosa di diverso. Ecco perché la narrazione per esempio della seconda serata, Daniele Letto, è un libro che certo mostra le varie sfaccettature della cultura e della religione ebraica ma al tempo stesso affronta il tema del confronto generazionale. Certo, quindi è un qualche cosa che fa da collante. Allora lei, Cristina, ci ha già introdotto in quello che è l'argomento, insomma l'approfondimento sulle serate. Allora partiamo però dalla prima, la prima serata il 5 aprile alle ore 20 e 30, magari riusciamo a proiettare nuovamente la locandina così vediamo chi sono i protagonisti. Si diceva parole che bruciano, anche una provocazione forse questo titolo. Parole che bruciano sì perché sono legate appunto ad un'intimità, ad un rapporto con la divinità e quindi la parola che brucia è la parola che poi genera altra vita. E questo è un po' un filo conduttore delle narrazioni che vengono proposte in queste serate. Bruciano anche perché toccano fino in fondo il cuore delle persone. Nel primo appuntamento appunto i due autori del libro di Calonimus e Shapira raccontano e riprendono tutta la documentazione che è stata trovata nel ghetto di Varsavia dove appunto dal 39 furono chiusi gli ebrei della città e dei dintorni e questo Calonimus proponeva le letture naturalmente di nascosto alla propria gente in maniera da tenere alta anche il morale, la motivazione di continuare a vivere. La determinazione. Riusciamo forse a inquadrare anche i volumi che verranno presentati, quindi questa è la serata d'apertura. Poi Cristina continuiamo con il secondo appuntamento il 12 aprile. Il 12 aprile avremo invece Natascia Danieli che parlerà di questo libro Daniele Letto di Cain Potoc che appunto racconta la vicenda di due padri e due figli. Due padri molto diversi tra loro così come lo sono i due figli. Saranno i figli ad unire le due famiglie perché proprio grazie alla loro amicizia troveranno dei punti di incontro tra due padri che avevano un'educazione religiosa molto dura, molto rigida, in particolare uno. E lì si comprende come il cuore, il sentimento possa aprire poi tante porte e quindi questo è un altro messaggio importante. Un altro messaggio, un altro invito, certo. E poi si conclude il 19 aprile. Esatto, con un altro testo importante di Giampaolo Anderlini che appunto parlerà di una parte molto famosa dei testi biblici, il rapporto tra Caino e Abele, sotto un diverso occhio rispetto a quello a cui siamo abituati a vederli. Il bene e il male, uno contro l'altro, uno rappresenta il bene, uno al male, oppure non è proprio così? Ecco, queste sono le domande, sono tante le domande che pongono questi testi che vengono presentati durante questo festival. E poi un ruolo speciale lo ha la musica e quindi coinvolgiamo Federico che è musicista anche lui, un raffinato cultuore appunto di questa materia. Federico, la musica è protagonista, è l'altra faccia della medaglia se vogliamo. Esattamente e non è soltanto un contorno rispetto ai racconti, ai libri e alle parole che verranno pronunciate durante queste serate, ma è pensata in simbiosi, quindi come un mutuo scambio diciamo tra le due componenti. Ci fa piacere sottolineare poi in questa sede che alcuni anche dei musicisti sono proprio legati, nati e cresciuti culturalmente e musicalmente a Santa Giustina, penso a Liana Maeran e a Ivano Battiston, penso anche alla nostra Marta Zambon violinista che si esibirà insieme al musicista De Biasi e poi a Teresa Pante e Paolo Carraro che sono già stati ospiti anche di una scorsa edizione, non del festival ma sempre di un'iniziativa organizzata dall'Associazione Culturale Pro Auditorio. Ecco quindi anche l'occasione per scoprire e riscoprire i talenti di casa possiamo dire così certamente. Ricordiamo che tutti questi incontri si terranno alle 20 e 30 giusto e che l'ingresso è libero, quindi questo lo ribadiamo appunto per i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento, l'invito è quello di partecipare numerosi. Quindi noi abbiamo avuto un veloce assaggio diciamo così della terza edizione del festival Vita e Parole, naturalmente lo ripeto per coloro i quali si fossero messi all'ascolto in questo momento, l'invito è di partecipare in prima persona proprio per godere del piacere della musica ma soprattutto per avere occasioni di arricchimento personale e culturale su questo mondo, quello dell'ebraismo. Io ringrazio quindi Federico Panizza e Cristina Pierotti per essere stati con noi, ci ritroveremo sicuramente prossimamente proprio per continuare a seguire l'attività dell'Associazione e quanto proposto a Santa Giustina. Grazie, grazie a voi. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci! Grazie a tutti!